Io volevo appunto ringraziare voi che con questa bella giornata state ancora davanti il computer qua a portare l'attenzione su questi temi perché parlano molto bene e in positivo di quella che è la motivazione per cui siamo qui. Infatti prima di fare una brevissima presentazione su di me per dire non tanto quello che sono ma quello che non sono volevo parlare del perché sono qui. Secondo me mai come oggi il mondo ha bisogno di un nuovo stile di leadership. Si vede molto in tutti i campi ma in particolare il nostro che è quello della tecnologia anche qua dentro si può ancora creare un nuovo stile di leadership ed è per questo che io sono qui. Ho iniziato la mia carriera come manager nel mondo della tecnologia perché ho studiato innovation and technology alla Bocconi proprio per lavorare in società di sviluppo software. Prima ancora società di consulenza in ambito IT in una delle big four poi appunto società in ambito di sviluppo software e infine in startup. Fin dai primi ruoli manageriali che mi sono stati dati ho subito visto che non ho trovato uno stile di leadership che mi rispecchiasse. In quel momento ho guardato in alto e ho trovato appunto il libro di Sheryl Sandberg, facciamoci avanti, Lean In e in quello mi ci sono molto rispecchiata. In quel momento ero appunto a capo di un team di quattro persone ed ero all'estero quindi ero una responsabile di tutto il digital, ero da poco responsabile di tutto il digital marketing rispondendo al country manager ed ero all'estero quindi mi veniva detto che ero un capo donna e straniera. Non è stato facile, ho proprio fatto molta esperienza sul campo come si dice, come si dice da noi, ho smazzato un bel po' di roba e ho avuto l'opportunità non solo quindi di studiare la teoria in ambito di soft skills ma anche di mettere in pratica tutto quello che ho studiato. Quindi in quel momento in particolare ero in Brasile che stavo nel 2014 lanciando un'app per i mondiali di calcio e appena rientrata a Milano nel 2015 ho iniziato quindi oltre alla mia carriera sempre come gestione di progetti tecnologici e innovativi in particolare app per smartphone quindi coordino i team business e tech nello sviluppo di app da zero. Nel mio tempo libero in inizio ho partecipato e poi sono diventata proprio la responsabile del chapter italiano di Lean In. Che cosa fa Lean In? Lean In è un gruppo che si trova una volta al mese a parlare proprio di leadership quindi questi temi che affrontiamo qua stasera sono proprio i temi a noi cari e temi che portiamo avanti proprio da anni. Ci tengo a specificare che sono un po' una nerd col rossetto anche se non sembra quindi posso parlarvi di piattaforme come posso parlarvi di altre cose in particolare ci tengo a dire che fin da piccola ho studiato danza e fino ad oggi sono una ballerina in particolare sono arrivata all'eccellenza anche lì perché sono una ballerina di Elio Le Storie Tese quindi ho fatto il concerto definitivo e so che di solito qualcuno li conosce quindi ho portato avanti tutte quante le mie passioni. Torniamo a noi. Ma 9 marzo 2020 una data che tutti ci ricorderemo nella nostra storia non solo italiana ma quella del mondo. L'Italia entra in lockdown. Per noi che lavoriamo esattamente esperienza the hard way è proprio quella che ti segna proprio non puoi scappare infatti io la uso molto con tutti quelli che collaborano con me e voglio che gli altri che lavorano con me la usino con me per continuare questo cammino perché sicuramente c'è sempre da imparare e quella è la migliore la migliore scuola. Quindi dicevo 9 marzo 2020 l'Italia entra in lockdown. I canali di comunicazione e gli stili di comunicazione cambiano diventano tutto diventa online in molti hanno già definito questo un passaggio da il mondo come lo conoscevamo a una nuova realtà. In particolare quello che all'inizio in italiano viene definito lavoro agile che per noi del tech agile è proprio tutto un'altra roba però vabbè molti definiscono lavoro agile noi definiamo lavoro da remoto. Perché lavoro da remoto? Perché tutto quello che era fatto prima è stato in molti casi copiato e prodotto online. Subito si sono visti i primi risultati quindi stili di comunicazione che prima erano fatti face to face come dico io nella vita reale non funzionano più nella vita digitale. Non serve solo una tecnologia per cambiare i modi e gli usi. Quindi l'obiettivo qua di stasera è di condividere con noi tre tips di come punto primo gestire l'attività in questa nuova normalità che è fatta sì di canali digitali ma che ci può dare un'opportunità per adattarci e costruire la nostra leadership anche con questi tipi di canali. Secondo gestire al meglio con questi nuovi canali la comunicazione con il proprio responsabile. Già ho sentito che qualcuno l'ha partita IVA e qua di solito scatta la domanda ma se io ho partita IVA significa che non ho un capo? Io dico che quello che vale come relazione col tuo capo essendo anche io partita IVA vale con il proprio cliente. Alessandro ti vedo attivo confermi? L'accendiamo? Ti vedo perfetto ti vedo annuire quindi fantastico. Alessia scusa posso interromperti un secondo? Certo. Volevo dirti l'orecchino che sbatte sul microfono. Fantastico. Scusami. Figura ti hai fatto bene a dirmelo. Ho detto che queste cuffie, provavo oggi le cuffie perché ho visto che l'audio funziona meglio quindi era la prima volta che provavo questa combinazione. Grazie mille per la segnalazione. Come vedete è un continuous improvement. Dicevamo. Punto secondo, capiremo come gestire la comunicazione con il proprio responsabile. Punto terzo, come mantenere motivati i nostri collaboratori che nell'ambito della partita IVA potrebbero essere delle persone che collaborano con noi per diverse attività. Ovviamente abbiamo ancora 20 minuti di tempo quindi daremo un piccolo consiglio per tre di questi campi. Quindi se riusciamo magari approfondiamo anche altri campi e in ogni caso anche io come Crafted Software che mi piace, che è una community che frequento da un po', vorrei lasciarvi con un regalo alla fine. Quindi restate qua fino alla fine perché c'è un piccolo regalo. Allora punto primo. Gestione dell'attività. La prima regola e forte consiglio che diamo in questo momento nella gestione dell'attività è mettere se stessi al centro. Che cosa significa? Lavorando da remoto è necessario rivedere attività, priorità e stili di comunicazione. Prima di andare dal proprio responsabile o dal proprio cliente, abbiamo detto, è necessario fare uno step interno con se stessi. Che cosa significa questo? Questo significa definire i propri nuovi limiti. Ripeto, l'emergenza è iniziata il 9 marzo. Abbiamo già capito che stare 8 ore in call davanti al computer forse non è una cosa che ci sta a genio. Quindi quale sarebbe per noi una soluzione ottimale in questo caso? Perché questo è molto importante? Perché questo aiuta il nostro responsabile o chi si interfaccia con noi a trovare il giusto equilibrio nella comunicazione. Per arrivare a questo obiettivo è necessario definire i nostri nuovi limiti. Punto secondo. Chiediamo aiuto. Questa è una cosa che non sempre viene spontanea. Alcune volte non eravamo così abituati a fare, non eravamo così abituati ad esporci, ma è importante farlo. Questo perché ottimizzando la relazione con noi stessi lavoreremo meglio, lavoreremo più motivati e raggiungeremo in maniera più rapida i nostri risultati. Quindi ci sono varie tecniche per poter chiedere aiuto. Quello che consiglio io è proprio una cosa semplice semplice, like the old good times, ovvero carta e penna. Carta e penna chiedere, definire i propri limiti e provare in questo modo a preparare un discorso, proprio scrivendolo, per poi confrontarsi con le altre persone. In questo modo avremo la possibilità di rivedere il discorso e sentirci poi a nostro agio nel momento in cui andremo a chiedere questo tipo di consiglio. Ripeto, questi sono dei tips che noi diamo, con qualcun altro funzionano anche altre cose. Quindi ognuno ha la propria metodologia e ognuno ha il proprio stile di leadership che va rispettato. Conosco anche dei manager che si fanno un grappetto di grappa nascosta in un ufficio tra i documenti prima delle riunioni per rilassarsi un po' ognuno ha il suo. Ecco, punto terzo, convolgi il tuo capo. Quindi solo dopo aver, uno, definiti i propri limiti, due, imparato come chiedere aiuto, tre, coinvolgiamo il nostro responsabile. In questo modo, quando faremo questo meeting e daremo le nostre motivazioni in maniera obiettiva e allineata con quello che è il progetto principale, verremo visti proprio come dei leader e daremo proprio il buon esempio per gli altri. Quindi ci dimostreremo proprio come molto consapevoli e preparati sulla nostra gestione del tempo e dell'attività. Poi abbiamo detto, come è possibile ora gestire la comunicazione col proprio responsabile? Abbiamo detto che i canali di comunicazione sono sempre, sono molto, che ci sono diversi canali di comunicazione. Per esempio abbiamo le telefonate, abbiamo sistemi di messaggistica istantanea, abbiamo canali appunto come email, canali come Slack, quindi diversi tipi di canali. Il modo migliore per gestire la comunicazione col proprio responsabile è conoscerlo molto bene e provare a usare l'empatia. Nel senso che nel momento in cui sappiamo lo stile del nostro responsabile, possiamo provare a chiedere e confrontarci con lui di utilizzare quel tipo di canale. Ovvero se sappiamo che il nostro responsabile è una persona a cui piace fare molte videochiamate, magari proviamo a proporgli una videochiamata dove parliamo dei nostri nuovi limiti, quindi della nostra nuova schedule e dopodiché ci proviamo a utilizzare l'empatia per far sì che questo messaggio arrivi a lui nella maniera più lineare possibile e più diretta possibile. Ecco, questo è un momento straordinario per utilizzare l'empatia. Che cosa vuol dire empatia? Empatia noi la definiamo come vedere le cose con gli occhi del tuo capo. I vari progetti e le varie attività possono essere viste di maniera molto diversa. Riuscire a vederli con gli occhi del tuo responsabile ti dà un vantaggio competitivo molto alto perché ti aiuta a prevedere quello che lui ti potrebbe chiedere e quindi prepararti e arrivare preparato in maniera più rapida sia al raggiungimento dell'obiettivo, ma sia a vederti come referente del progetto, come persona affidabile e quindi come leader. Terzo punto, come mantenere motivati i nostri collaboratori. Voglio farvi notare, non abbiamo domande, ok, perfetto. Voglio farvi notare che ho lasciato i collaboratori, i colleghi e in generale la community come terzo punto. Proprio perché è molto importante partire da noi stessi, partire dai nostri stakeholder e solo in terzo punto connetterti con la community. In questo momento viviamo in un momento storico di molta sofferenza. La cosiddetta botta emotiva, sto leggendo molto su questo tema, soprattutto a livello di psicologia, non è ancora arrivata perché stiamo ancora in un momento in cui la società stringe i denti per andare avanti. Quindi le persone formate di questo campo hanno detto che prevedono proprio un down emotivo dopo l'estate più o meno, quindi settembre-ottobre. Quindi come arrivare preparati a questo momento? Quello che noi consigliamo di fare è fin da oggi iniziare a chiedere delle piccole cose. Abbiamo a disposizione come l'in-in molte risorse su gestire la crisi perché, e qua ci tengo a fare una piccola parentesi. Sheryl Sandberg ha scritto questo libro come CEO di Facebook e subito dopo nella sua vita ha perso tragicamente il marito. Erano appunto, stavano passando le vacanze insieme e improvvisamente, dopo un malore, lei ha proprio ritrovato il marito. E da qui è nato il secondo progetto di Sheryl Sandberg che si chiama Option B, che semplicemente vuol dire che quando non puoi andare col piano A vai col piano B. Un'altra cosa che noi del mondo della tecnologia troviamo come una regola molto affine, anzi vedo Simona tra i partecipanti, io con Simona diciamo non solo il piano A e B ma anche C, D, E e F. Quindi in questo caso abbiamo molte risorse, proprio degli esercizi e dei training, che aiutano a gestire questa parte emotiva. Come connetterti con la community oggi a questo livello, per noi è un gesto molto semplice, che è iniziare le telefonate, iniziare le comunicazioni chiedendo come stai. Potrebbe essere un gesto che sembra banalissimo, ma molto spesso è nella semplicità che sta il valore delle cose. Quindi iniziare anche una call di lavoro, iniziare una call con colleghi, una call con i familiari, con come stai e imparare ad ascoltare davvero la risposta, ci può dare molte segnali e ci può aiutare di nuovo ad allenare questo muscolo dell'empatia. Allora, io adesso farei un attimo un check sul tempo con Angelo. Angelo, se vuoi io vado avanti con questi punti o vedo se ci sono domande, dimmi tutto. No, non ci sono domande in chat almeno, se non le hanno fatte privatamente a te non ci sono. Ok, perfetto. Quindi io andrei avanti con i prossimi punti. Cos'altro possiamo fare quindi durante questo nuovo periodo di lockdown e di crisi per gestire questa nuova fase? Punto 4. Bilanciare le attività di casa e quelle della famiglia. Abbiamo detto che l'impatto lavorativo è molto maggiore in questo periodo di remote working rispetto a quanto era prima. I piccoli momenti che c'erano di caffè, i piccoli momenti di spostamento sono stati sostituiti con attività e performance. Quindi il lavoro della casa e il lavoro della famiglia va bilanciato con quello del lavoro. È molto importante in questo momento rivedere gli orari e gli spazi di questo tipo di attività. Punto 5. Giustissimo, Michael. Ottima osservazione. Io per esperienza personale posso dire che chiedere ciao come stai se non si è veramente interessati può portare alla demotivazione delle persone. Verissimo. Quello che anche se il canale è virtuale, il ciao come stai con interesse versus il ciao come stai senza interesse viene percepito. Quindi cerchiamo di, all'inizio magari di sforzarci, se vogliamo essere percepiti come leader, perché in non tutte le situazioni vogliamo essere leader, ricordiamocelo sempre, in alcune situazioni vogliamo essere leader di cambiamento, ma in altre non lo vogliamo essere. Quindi in quelli che vogliamo essere leader e vogliamo essere riconosciuti come leader, ricordiamoci che piccoli gesti soft, piccoli gesti di empatia, come ciao come stai, possono avere un grande impatto nel lungo periodo. Quindi nel momento in cui vogliamo essere percepiti come leader, allora lo facciamo, altrimenti no. Cioè se queste persone non ci interessano, potrebbe essere una cortesia perché in alcuni casi è un ottimo segnale lasciare le porte aperte e quindi questo piccolo consiglio ci potrebbe essere d'aiuto. Numero 5, ridefiniamo il successo professionale e personale. Immagino che alcuni di voi lavorano, la maggior parte di voi lavorano come obiettivi nell'ambito professionale. Alcuni di voi probabilmente hanno anche degli obiettivi personali, molti durante il capodanno fanno un bilancio dell'anno e si danno degli obiettivi. Ecco, in questo momento non dobbiamo aver paura nel rivedere i nostri obiettivi personali, quindi sia lavorativi che personali. In particolare, che cosa significa oggi successo professionale e che cosa significa oggi successo personale? Quello che noi consigliamo è ridefinire i grandi obiettivi che ci eravamo imposti in piccoli obiettivi. Ricordiamoci che in questo momento la nostra società è in una delle più grandi recessioni. L'ultimo dato che ho letto è dal 1998, poi se non è aggiornato mi scuso, tornerò a cercare ma questi dati cambiano sempre. Quindi in un momento dove molte persone stanno perdendo il lavoro, molte persone stanno perdendo clienti, già la vera possibilità di continuare a lavorare sui nostri progetti è un ottimo risultato. Quindi, ridefinire e celebrare i propri successi sia professionali che personali in piccoli step. Una cosa che io facevo fino a poco fa con il mio team, prima di entrare in questo progetto dove invece sto portando avanti solo io, era il giovedì, dopo aver fatto il recap di tutte le attività, quindi il weekly meeting, non so se qualcuno conosce la terminologia, ma è appunto un email o un documento nella quale si vede le attività raggiunte nella settimana. Dopo aver finito questo documento da scambiare internamente con il resto dell'organizzazione, esattamente, ricordarti dei piccoli traguardi. andavamo a berci una birra tutti insieme. Quindi è un piccolo traguardo, ma aver mantenuto la costanza in questo periodo di forte tensioni e forte disarmonia di tutto quanto il sistema, per non parlare anche dei lutti di alcune persone che hanno e delle famiglie e dei momenti delle famiglie che stanno vivendo, è un accomplishment, è un traguardo molto, molto grande. Quindi ricordarsi dei piccoli traguardi, come ha detto Angelo, e di fare celebration di questi piccoli traguardi. Numero 6. Imparare a gestire lo stress e l'ansia. Lo stress e l'ansia sono molto difficili da risolvere completamente, però si possono gestire. Un buon leader sta a gestire lo stress e l'ansia. Io mi ricordo quando facevo le migrazioni. Ogni volta che si faceva una migrazione, si faceva il segno della croce e con molta pazienza si faceva la migrazione e poi si aggiustava, si aggiustavano qualcosina e si lavorava su queste, su queste modifiche. Vedo altre delle, delle altri consigli che sono bellissima questa, non dica migrazione se mi cheat, adoro, adoro. Io ogni volta che mi dico la migrazione, brividi, perché chi l'ha fatta sa cosa ci si passa. Ecco, esattamente. Quindi, queste cose che abbiamo imparato noi del tech durante la migrazione vanno benissimo durante questo periodo, perché sanno cosa vuol dire gestire lo stress e l'ansia. In termine di business, diciamo, alleniamo il muscolo della resilienza, ovvero risolvi i problemi principali e poi dai l'impatto, lascia spazio all'impatto emotivo, vivi quello che devi vivere per poi appunto tornare a un livello ottimale. Quindi, eccoci qua. Allora, volevo appunto rileggere queste comunicazioni in chat. Concordo con Marco. Organizzare almeno una videochiamata settimanale di team potrebbe dare una mano in termini di coinvolgimento di gruppo e per ridurre le stanze del lavoro remoto? Assolutamente sì. Ti confermo che nelle nostre riunioni è sempre venuto fuori questo punto, quindi ottimo Marco. Non mi dico migrazione, bellissimo, voglio la maglietta. E poi multitasking sì, ma con dei limiti. Concordo anche se questo sul 100%. Io non sono multitasking. Cioè, e sono una donna che c'è molto questo predisodizio, le donne sono multitasking. No, io mi isolo. Addirittura anche qua, prima di questo talk, ho detto a tutto il team di Crafts & Swatcher datemi due minuti che mi isolo, perché ci sono molte teorie sul multitasking e non tutte dicono che aumenti l'efficienza. Poi, la mente umana non è multitasking. Ecco, di cosa sto parlando? Benissimo, parlate con Luca che ne sa. E rispondendo a Lara, puoi approfondire la resilienza? Allora, la resilienza, io che sono una persona terra-terra e di business, non sono psicologa, la definisco in modo fisico, materiale. Cioè, prendendo un metallo, un materiale e dandogli una forza, il materiale ha questo movimento che si modifica in base allo sforzo. La stessa cosa succede all'essere umano. Poi adesso, magari, Simona, che anzi vi consiglio, se volete approfondire questo tema, Simona sicuramente può approfondirlo. Ma è proprio questa capacità dell'essere umano di, in condizioni avverte, adattarsi per poi tornare a situazioni normali. Io la definisco in questo momento. Quindi, figurati, quindi in momenti come questi, che sono diverti dal normale, c'è necessario di questo tipo di adattamento. Sappiamo che è temporaneo e quindi è questa capacità di adattarsi. attenzione ai limiti della resilienza perché, appunto, essendo un momento sotto sforzo, poi ci dovrebbe essere un momento di ritorno alla normalità. Quindi è proprio questo, è questa la concezione. È molto importante che poi si ritorni a questo momento di normalità. Quindi in questo momento, quindi eravamo in un momento di normalità, nel nostro caso cosa significa? Eravamo in un momento di normalità. Siamo andati dal 9 marzo in un momento di crisi, quindi molto forze. Adesso, in maniera resiliente, torniamo e costruiamo una nuova normalità e torniamo al livello. Daniela, videochiamata giornaliera, direi, del tipo daily meeting, anche se solo un quarto d'ora, sentirsi che tutti i giorni ha funzionato con le persone con cui lavoro e possibilmente con la cam accesa. Confermo, anche questo c'è stato detto durante le nostre riunioni. C'è da dire una cosa, che accettiamo chi non accende la webcam. Io sono per l'inclusione a tutti i livelli. Se qualcuno un giorno non vuole accendere la webcam, ha tutti i diritti di non accendere la webcam. Quindi un buon leader deve riconoscere che non tutti i giorni, non tutti i giorni siamo up, siamo positivi. Ci potrebbero essere dei giorni dove questo non è possibile. O delle persone che preferiscono non lavorare, si sentono molto più a suo agio, magari delle persone più introverse, e molto più a loro agio con la webcam spenta. Quindi accettiamo la diversità. E si è scatenata la chat. Io vado avanti, se non vedo segnali di Angelo, vado avanti e continuo a leggere. Sì, abbiamo ancora 20 minuti nello slot per lo speech. Quindi sia per le domande, sia per le tue conclusioni. Va bene. Ottimo. Sulla cama accesa non sono d'accordo. Ho una collega che non l'ha mai usata e pian piano abbiamo smesso tutti. Alessandro, guarda, senza leggere la tua in chat, ti confermo che... Aspetta, ti confermo che la tua collega ha diritto a non utilizzare la webcam. Va capito qual è l'equilibrio a livello culturale dell'organizzazione. Mi spiego meglio. Prima era molto facile capire qual era lo standard del team. Perché vedendo le persone nella vita reale, automaticamente si capiva chi era più... Si poteva intuire chi era più introverso, chi era più estroverso, a chi piacevano i riflettori. Ci sono dei tipi di persone che adorano i riflettori, delle altre che non adorano. Questa cosa della webcam deve essere... È possibile leggerla in questo modo. Quindi, come capo del team, come capo di un team, cerco di ricordarmi e utilizzare l'empatia per capire a chi fa più piacere, magari, attenzione e quindi webcam, e a chi no, e cerco di portare questa cultura all'interno del team. Siamo in un tempo che sta dimostrando come una regola generale, valida per tutti, non è più una delle nostre... delle soluzioni attuabili, ma anzi, sempre più obiettivi vengono raggiunti nel momento in cui si riconosce la diversità del team. Questa è proprio una cosa dimostrata a livello di revenues. Vado avanti. Non le facciamo 15 minuti tutte le mattine, vedo benissimo. Confermo che la vediamo chiamata una volta a settimana aiuta. È vero tutto naturale, mi sento più concentrato a mio agio se tutti sono veloci. Se tutti sono solo voci. Vedete, per esempio, Alessandro dice che la cultura aziendale e organizzativa del suo team rispecchia più questa funzionalità, più questa funzionalità di camera spenta, e quindi più questa attitudine. Bellissima metafora, grazie. Ora si parla addirittura di translilienza, cioè il passare da una fase di resilienza ad un'altra. Perfetto, Luisa, fantastico, me lo segno e approfondisco il tema. Del concetto di... Bellissima metafora del concetto di compensazione, grazie. Io vorrei accettare a webcam, ma il problema è la sim telefonica che non regge neanche il traffico video. Questo è un problema molto interessante di dare gli strumenti tecnologici a tutti i dipendenti. Vedo strategie diverse a seconda del tipo di organizzazione. Potrebbe essere un ottimo momento per utilizzare i tre step per parlare col proprio responsabile e chiedere un supporto, nel caso lavorassi in una organizzazione tecnologico di questo tipo, per aiutarti a svolgere meglio le tue attività e lavorare meglio con un traffico dati migliore. Siamo un paese italiano che ha meno di pochi centri abitati, non tutti sono coperti da collegamento ad alta velocità. Più ci facciamo sentire, più avremo la possibilità, in questo momento storico, di portare avanti anche questo tipo di richieste. Io sono comunque dell'opinione che ognuno, come detto all'inizio, che ognuno di noi, come leader, può dare il proprio esempio ed è così che poi, goccia dopo goccia, si potrà cambiare la società. Webcab spento uguale pigiama? Luca, no. So che non dovrei essere un po' più polite. Bellissimo l'occhiolino, assolutamente l'occhiolino. Ripeto, se ci fidiamo dell'altra persona, se ci fidiamo dei nostri collaboratori, conosco molto, ci sono ormai sempre più prove che è possibile. Addirittura una prova l'ho vista proprio qua a Crafted Software in uno degli ultimi meetup di organizzazioni senza uffici e con persone e dev in tutto il mondo. Vabbè, tema WordPress, eccetera, eccetera. Ma mi ricordo proprio qua a Crafted Software, c'era un'altra organizzazione che aveva portato questo caso, quindi abbiamo superato questo pregiudizio estereotipo di webcam spenta, abbiamo uguale pigiama proprio qui in questa community. Accendiamo la cam spenta, ovvio, ma se parli con gli altri la comunicazione avviene anche attraverso lo sguardo. Daniela, concordo, dipende da qual è il nostro obiettivo, nel senso che se vogliamo, dipende appunto da qual è il nostro obiettivo, se il meeting è un meeting di recap di 5 minuti su tipo di attività da fare durante la giornata, anche se la webcam è spenta, portiamo a casa il risultato e magari mettiamo l'altra persona più a suo agio, evitando tensioni. Se invece il meeting è un meeting di performance review che dobbiamo chiudere il progetto per andare a presentare il progetto al cliente o al top management, allora la comunicazione non verbale magari potrebbe essere molto utile. Luisa, speriamo non troppa transiglienza. Infatti sì. La cosa interessante è che con naturalezza, senza dirlo, abbiamo smesso tutti senza problemi. In pratica abbiamo scoperto di non avere bisogno del viso per l'empatia. Fantastico! Fantastico! Che cosa significa questo raggiungimento? Significa che l'organizzazione, la cultura organizzativa è arrivata a quel livello tramite per cui non è più necessaria la comunicazione quindi visuale ed è un livello di consapevolezza dell'organizzazione basato su fiducia e pratica che è un livello veramente bellissimo e emozionante. Non sono d'accordo con Alessandro. Angelo, su. Abbiamo smesso tutti senza problemi, abbiamo scoperto di non avere bisogno del viso per l'empatia. Magari, allora attenzione, abbiamo 18 nuovi messaggi quindi per rimanere nei tempi vado un attimo alle domande più rilevanti e mi scuso se non riesco a risponderle tutte ma magari ci scambiamo i contatti o facciamo un altro incontro di crafted software. Ora vediamo. Le leggo un po' tutte così facciamo dei commenti un po' più generici. Allora. Perfetto, allora. Ecco, vorrei selezionare questa domanda di Marco. Come riuscire a mantenere alta la concentrazione del team remoto? C'è chi preferisce delle interazioni costanti nel corso della giornata e chi preferisce limitare qualsiasi tipo di distrazioni? Andrebbe trovata una via di mezzo come gruppo o definire un approccio singolare? La seconda. La seconda è spiegare al gruppo perché si vuole un approccio singolare. Gli studi dimostrano che la seconda porta risultati migliori nel lungo periodo. All'inizio è un po' più sbatti, no? Nel senso che all'inizio è un po' più... ha bisogno di più energie e quindi ha bisogno di più meeting one to one e più tempo per organizzare questo tipo di comunicazione per far sì di capire ogni singola persona. Io conosco questo manager che è responsabile IT di una grossa banca italiana che lei, nel momento in cui una persona entra nel team, fa compilare un foglio dicendo che cos'è la cosa più importante per te nell'ufficio? E alcune persone rispondono la mia postazione deve essere vicina alla finestra. Altre persone rispondono vorrei avere una pianta sulla scrivania. Altre rispondono vorrei avere due schermi. Quindi, questo perché lei lo fa? Perché fin dal primo giorno lei sa chi è l'altra persona e nel momento in cui si conosce l'altra persona si conosce come motivarla. Quando sai come manager come motivare il team li porti più rapidamente al concorrenza, li gestisci meglio e quindi li porti più velocemente ai risultati sia personalmente sia come team. E questo è tutto dimostrato. Ok. Come evitare le continue distrazioni tra call e chat? Nel momento in cui c'è la call e questo è un altro punto che magari, ripeto, servirebbe un'altra oretta per fare, io eviterei proprio nel momento della call di utilizzare la chat. questo perché questo perché nel momento in cui si arriva a una call significa che questo è un meeting. Un meeting si dovrebbe arrivare con un'agenda e dei punti di meeting. L'obiettivo prima di arrivare al meeting c'è proprio tutta una parte di training che appunto se volete approfondiamo oppure qui c'è anche Simona che è esperta anche su questo campo di gestione dei meeting. Innanzitutto va capito se il meeting è necessario farlo. Appunto nel momento in cui si capisce che c'è necessità di un meeting al meeting si arriva con già un'agenda dei meeting pronta con attività priorità e responsabile. Leggendo questo tipo di seguito questo tipo di schema non è necessaria la comunicazione in chat anzi se tutti arrivano nel meeting nel momento in cui le persone arrivano al meeting è necessario che per un breve periodo magari 5 ma già 10 minuti secondo me è tanto io di solito non vado oltre i 15 5 minuti sono necessari per focalizzarsi sul meeting e chiudere quei punti proprio perché i nuovi canali di comunicazione online portano via un po' più di energia quindi il mio consiglio è quello di ottimizzare l'energia nel momento in cui ci sono 5 minuti di meeting video staccarsi dalla chat e utilizzare il video se leggo qua al commento di Alessandro se per me la chat comune metta facilmente il tavolo di sala meeting in cui dicevano asset, immagini link, supporto per tutti in parallelo la condizione del schermo e basta benissimo la chat benissimo Slack nel momento del meeting in teoria per arrivare come leader e ottimizzare il meeting tutti questi asset devono essere conosciuti da tutti quelli del team quindi questo perché proprio per ottimizzare la modalità dei meeting quindi utilizziamo questa chat utilizziamo questi canali nel momento del meeting si parla del meeting e quindi se è necessario spiegare qualcosa magari prima del meeting mandiamo un'email dicendo leggetevi questa parte di documentazione perché parleremo di questa parte di documentazione arrivate preparati e se voi siete responsabili del progetto state pronti a rispondere a punto primo presentare il progetto rapidamente quello che dico io come consiglio è come se come se l'altra persona non lo conoscesse o se quindi o se in maniera molto semplice quindi molto lineare è semplificata e dall'altra parte conoscere anche lo status del progetto quindi nel momento in cui ci si viene del meeting non si tira fuori la documentazione ma si espone così anche un esercizio di esposizione e di consapevolezza e di appunto di leadership perché per diventare dei leader è molto ed essere ad esempio è molto bello anche dare la possibilità agli altri del nostro team di avere il loro momento e di iniziare anche loro questo tipo di processo quindi allenarli da queste piccole attività ed infine quindi dare la possibilità alla persona di arrivare preparata quindi dire brevemente di cosa tratta l'oggetto dire qual è il last step io lo chiamo il last step e dire qual è il next step il responsabile in questo modo non è necessaria la chat durante il meeting e in pochi minuti si può fare lo status del progetto e condividere con gli altri e se ci sono domande risolverle brevemente perché tutti non fossero focalizzati sulla chat ma sono focalizzati sul meeting e chiuderla nei tempi più brevi a questo punto direi di chiudere perché vedo che anche questa chat si è calmata questo tipo di dinamiche sono state di dinamiche di soft skills di leadership all'interno di Lean In sono state approfondite anche e vi metto il link nella chat segnatevelo perché poi Zoom cancella tutto da Forbes che ha fatto proprio una serie di articoli su questo tipo di tematiche a me piace molto il metodo anglosassone perché è molto snello e ha fatto queste pratiche che fanno parte appunto di diventare diventare un leader in 15 giorni con una pratica al giorno questo tipo di avviso che spoiler alert questo tipo di pratiche in realtà non ci vorrebbe un giorno per ogni pratica ma un mese un anno per ogni pratica però se qualcuno volesse approfondire ecco questo è un ottimo metodo molto veloce e è approvato solido da un metodo scientifico che purtroppo non va così di moda questo è un'ottima fonte per approfondire questo tipo di tematiche in totale autonomia e nel caso se volete approfondirne qualcuna mi trovate su LinkedIn come Alessia Bertoldi su Instagram su Facebook oppure contattate direttamente Craft e Software che hanno tutti i miei contatti se volete approfondire qualche parte di training o un training ad hoc per voi o per il vostro team grazie mille Alessia allora io procederei prima di andare avanti con i nostri annunci proietterei questa cosa qui che utilizziamo negli ultimi meetup perché fondamentalmente è un modo per raccogliere in diretta dei feedback che ti possono fare i partecipanti quindi dovete collegarvi a menti.com e usare questo codice 28 2856 e vi si aprirà un piccolo form velocissimo nel quale potete inserire il feedback allora ci tengo a precisare che ho aggiunto io Biva PHP perché è stato denigrato in uno dei precedenti meetup quindi a rotazione io e Michael lo cerchiamo di difendere vorrei che mi contattasse poi in privato chi ha scritto not context switching perché è sotto ha centrato il punto quindi voglio capire esattamente che cosa posso migliorare io adoro il feedback soprattutto se è negativo perché penso che si cresca da questo quindi chi ha scritto quella cosa mi contatti e mi dica esattamente il punto che posso migliorare su un not context switching perché essendo sopra sotto hai centrato il punto le due cose sono in conflitto quindi fatemi sapere ok però ti dico Alessia che la posizione delle frasi non è correlata è casuale è il sistema ok eh ma il caso sai com'è sono il caso non esiste dice qualcuno tanta roba illuminante ok la resilienza di moda vero noi del tech secondo me siamo nati resilienti come dire ok chiaro slide please ok perfetto faccio le slide scrivetemi quello che ha scritto slide se fare slide pubbliche o slide private perché so che questo evento è registrato però se ci sono delle slide da mettere pubbliche su slide share posso fare anche questo slide pubbliche perfetto sei ganza mi piace da morire ancora un minutino per raccogliere questi dopo ti passo assolutamente il pdf che viene generato così io vorrei chiudere con una nota un po' amare in bocca so che di solito in chiusura non si fa però riprendo il primo punto che è il perché sono qua ripeto c'è come ho lavorato nel nel mondo della tecnologia c'è ancora mi sento molto più parte del della cultura del team del cosiddetto team tech versus business proprio per per tutta la parte di sia di focus sui gli obiettivi sia sulla trasparenza sia sulla parte di inclusione ho affrontato tante 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 sfide nella mia vita da mobbing a licenziamenti e a uno dei miei amici di infanzia che fa gli anni cinque giorni cioè proprio del mio paese che fa gli anni cinque giorni dopo di me che è venuto a mancare improvvisamente proprio si è si è suicidato quindi in questo periodo storico la resilienza vuol dire che ci sta di non è non è una frase fatta quella dire di ci sta di stare di stare male siamo fortunati ad essere in una società italiana in uno stato italiano che ha tutte le strutture di supporto per ritornare e riportare queste storie ad essere ad esempio per gli altri esatto la resilienza non è scontata è un muscolo che si allena la vita ci presenta tanti scenari vi faccio un esempio proprio su questo tema tema del del suicidio conosciamo tutti il DJ Avici in Svezia a dicembre dell'anno scorso è stato fatto un mega concerto proprio di sensibilazione sulla mental health e la salute mentale è sicuramente un tema molto vicino alla resilienza e che è necessario è necessario affrontare in questo momento perché ripeto la parte della la faccia della psicologia dice che la botta arriverà ancora più in là quindi si può non è si può chiedere aiuto e si può chiedere aiuto anche in maniera totalmente autonoma in maniera anonima perché siamo fortunati di essere in una società che ci dà tutte le strutture per farlo e non c'è assolutamente niente di male tutto si supera come come la migrazione che al massimo fai un rollback e poi evolvi in una fase nuova non confondenti resilienza con l'arroganza assolutamente molto vero anche questo punto la psicologia ci parla di fascia come un'onda sinuesale non ricordo come si dice in italiano una sinoide esattamente altrimenti si rischia il burnout pesante esattamente e si parla di in inglese è la dove la ricordo è tipo una zona di conforto quindi alcuni giorni magari sono un po' down alcuni giorni sono un po' più felice la resilienza mette sotto stress questa fascia di conforto che diventa più breve poi ci deve essere questa parte di ritorno alla normalità se non c'è c'è il rischio burnout di di Michael che sottolineato da sottolineato da Michael trovate un sacco di di testi sopra su questo argomento e nel caso chiedetemi vi mando tutte le referenze esatto proprio una comfort zone ha un altro nome ma non mi ricordo proprio comfort zone ed è proprio questa cosa qua quindi c'è un periodo di molto stress però dopo ci deve essere questa parte qua questo fatto di passare da crisi a crisi non concordo me lo studio meglio quello di trans resilienza vediamo Alessia grazie mille ti voglio fare un applauso sperando che Zoom trasmetta il rumore grazie sicuramente è stato molto molto interessante mi piacerebbe approfondirlo magari anche con un altro tipo di attività che potrebbe essere un link coffee o qualcosa di più strutturato insomma nel futuro in uso idale Max vado vai tu sei la voce la voce della chiusura video di slide no io davvero ci tengo a complimentarmi con Alessia davvero perché non si vede molto spesso uno speech di questo tipo e a me è arrivata tantissima cioè sei dimostrata resiliente durante l'ospice cioè io nel senso io una cosa del genere non è così semplice cioè ti sei adattata alla chat e mi hai stupito veramente stato stupito tantissimo mi durava grazie grazie non è facile sei gestita la chat da sola poi un sacco di commenti sicuramente è un tema importante oggi quindi hai fatto benissimo a sollevare questo questo argomento quindi si approfondiremo probabilmente perché mi viene voglia di approfondire tanto questo tema della resilienza della della leadership al femminile questo l'ho messo io perché secondo me ce ne sarà sempre più bisogno quindi brava speriamo se avete junior mandatemele ve le formo io questo questo non vuol dire girl power cioè non c'entra niente no non c'entra niente